Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Da quando è tornata Strescia la notizia Michelle Hunziker sta facendo fare molti più ascolti al programma di Antonio Ricci, questa volta la sua gonna letteralmente mandato in Tiltil Web .Michelle Hunziker.Non è stato un momento semplice per Michelle La showgirl ha dovuto affrontare le fatiche di una separazione che ha comunque coinvolto tutta la sua famiglia Michelle e Tommaso sono detti addio sapendo che la loro decisione avrebbe creato un clamore mediatico non indifferente Ma la felicità e la notorietà hanno un costo che loro hanno messo in conto Il ritorno a Strescia la notizia con il mitico compagno d'avventura Gerry Scotti è stato un tocca sana per lei, reduce da una depurazione dello spirito avvenuta attraverso una piccola ma doverosa vacanza alle Maldive dopo il suo programma in prima serata su Canale 5 Michelle Hunziker.La gonna si squarcia, visione paradesiaca.Il look di Michelle Hunziker hanno sempre creato un po' di scalpore sui social Questa volta però è la sua gonna a tubino da centrare tutta l'attenzione Michelle Hunziker.Ogni sera, al TG satirico, sfoggia outfit pazzeschi che molti fan non vedono l'ora di emulare Tra l'altro, Michelle, non osa solo con grandi marchi come Armani, vestiti sfoggiati soprattutto nelle grandi occasioni, ma anche con brand low cost A rendere particolarmente bollente la foto è senza ombra di dubbio l'inquadratura Con una gonna non cortissima, ma con uno spacco decisamente profondo e altissimo, l'inquadratura può fare molto Michelle ha lasciato che venisse scattata dal basso la foto, scatenando letteralmente i suoi fan con like e commenti positivissimi Michelle la striscia, look pazzeschi e altamente seduttivi.Il look postato su social è quello che vedremo in onda nella puntata di striscia ovviamente già registrata Michelle ha deciso di usare come colore che più è in voga in tv di questi tempi, il giallo, sfoggiato anche dalla collega Belena Leiene Il tubino però è rigorosamente nero, colore della sensualità La foto ha subito scatenato i fan che ancora oggi si interrogano che la bella Michelle abbia già rimpiazzato il tenebroso Trussardi Sul web si legge, infatti, che il suo nuovo compagno è il dottore Giovanni Angiolini Tra l'altro, sono ancora molti retroscena che avvolgono la separazione tra Michelle e Tommaso Pare, infatti, che la relazione tra i due fosse già finita da più di un anno Prima di dare la notizia però i due hanno voluto che la cosa raffreddasse Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video